musica 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 come amici noi siamo i due bomber al freestyle bombers super grande sfida quest'oggi qua sul canale sombrero challenge con il capitano del portugalo ovvero ce ne spera eccolo qua ecco con noi un qualcosa di più eh un qualcosa di più eh comunque ha ritrovato il suo ex compagno di squadra carim de dream oggi non si è poi niente non si vince niente non giocavo niente ma ragazzi ce ne spera aperto il canale youtube quindi andate subito ad iscrivervi qua sotto perché ne vedremo assolutamente delle belle e soprattutto ragazzi un bel like un bel commento subito perché sennò vengo a casa vostra e ne parliamo ragazzi sombrero challenge tre sfide molto particolari seguite il video fino alla fine spolliciate like e commento per chi vincerà questa sfida ma direi se siete pronti partiamo con la sfida siamo pronti vamo 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 allora bombers per i due bomber partirà zapigno quindi vediamo pari o dispari per chi inizierà la sfida a tirare pari v v v v v v v partiii quindi zap parte a tirare sciere e spera in porta sombrero challenge e diamo il via a questa super sfida prima sfida della sombrero challenge qui dovremo tirare all'interno dei quattro birilli che abbiamo inserito successivamente dovremo correre all'esterno dei due palloni andare in porta e così via ragazzi sarà veramente un macello ma vedremo chi vincerà questa sfida tre tiri per zap e tre tiri per drigg la mia invia a questa drigg ciao drigg ciao 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 bello ciao ciao 3 2 1 via primo tiro e si corre e via e si corre 2 gol primo 0 e vai e via e via eeeh Luca sbaglia lato Luca sbaglia lato tira attenzione zap è già in porta primo tiro vediamo l'avete dentro la bomba no zap questa era buona l'ho sbagliato io l'ho sbagliato io si continua a sbagliare qua potevo già pararla cavolo attenzione dai dai zap 1 a 0 momentane no? la mette sotto che tiro uh e Luca deve fare il giro lungo si si dai dai luca si si ok che sassata hai toccato le dita dai funziona ai ragazzi dai zap no dai zap l'ultima parola dai per zap attenzione e poi si cambia e poi andremo in una possa eh ragazzi Luca deve tenere duro eh ma lui gioca ad alti livelli quindi non può fare questa la parola dig? eh ti conviene vai prendi la palla dai zap devi metterla qua tocca a me staspetta ragazzi staspetta vai dig? staspetta metti la la metti la la metti la la per entrare per entrare per entrare per entrare così non è male quanto siamo? vedete me la fuori dai dai luca ha sbagliato anche l'altro dai dai vai dig? no vai che la staglia ragazzi la sfida sembra facile ma in realtà fatta tutta di fretta c'è il piazzato di dig c'è uno stop di 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 luca ragazzi ma commentate ma è lui o non è lui? vai dai dig devi solo segnale sto sbagliando tutto l'ho spompato luca è a più due la bara dai vai luca e la sbagli si la sbaglia l'ultimo e c'è gol vamo ragazzi sfida tosta io ho commesso degli errori all'inizio perché potevo prenderla su due occasioni però complimenti a luca c'è comunque il fiato c'è il fiato c'è nonostante non giochi più lì in realtà è finita 3 a 2 se usiamo l'ultimo giro però in realtà è finita 3 a 1 siiii adesso abbiamo giunto i saltellini dopo la curvata del pallone allora 3 2 1 salto del canguro prossimamente nel nostro canale ecco il nooo era già lì era devi saltare oh devi saltare eccola lì è ritardo eh luca è ritardo si si ma lo serve lo serve eh attenzione non si ferma mai la palla eh ragazzi buono buono drop usa la testa si dai si in vantaggio si in vantaggio nooo ha recuperato luca buona no la mette fuori bravo bravo recupera la palla luca sei secondi per luca per calciare uno due tre quattro cinque buona si zap si zap si zap non gliela diamo vinta butta dentro butta dentro butta dentro esatto palla 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 lì recupera lì terzo tiro anche per luca l'attacchezza inizia a farsi sentire ragazzi sfida disastrante bomba sei buona vai zap dai 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 che recuperi dai che recuperi appoggiala vai tira appoggiala porca troia nooo difficile ragazzi difficile del solito vediamo lì che se tiene il risultato la palla lì che grande vai uno due sei vantaggio lì sei no questa è sfiga che resfera una medaglia al valore bisogna dare questo ragazzo sei giri per lui e c'è anche grandissimo digger che tiene in vita la speranza e non c'è di spera quinto tiro lì ritiappa devi segnare buttiamo la pressione vediamo se c'è il tiro rato paru e non ha risposta si posiziona segna all'ultimo tiro gambe piegate più uno per lui ragazzi terza e ultima sfida 4 a 1 momentaneamente per luca zap dobbiamo segnare e lo faremo unica cosa in più per l'esercizio sono le due barriere là in mezzo che potrebbero forse creare qualche disturbo non lo sappiamo truici one e partiamo dai facciamo gol facciamo gol ecco lì primo e sei buono sa già di vincere proprio che non mi serve parare basta calciare attenzione è quello che dice vedete ragazzi io ve l'ho detto io ve l'ho detto io ve l'ho detto ma è qua e cosa vuoi mettiamo dentro no 4 a 2 luca luca è fermo luca è fermo sei secondi ho capito guarda mi metto la palla ah già poi l'ho riaggiusta attenzione l'ha ripreparato mamma mia la bomba secca proprio fortissima no zap c'è l'altra c'è l'altra è l'ultimo tiro eh niente zap continua a distruggere il campo da gioco è l'ultimo eh 4 a 2 ballo ferma dai oh disturba 4 a 2 dai 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 già metti la mano metti la mano scasso pallone 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 dai 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 il quarto gol e c'è il quarto gol non c'è potrebbe luca chiudere con un punteggio netto di 6 a 3 vediamo se c'è l'ultimo e c'è un gran gol quindi ragazzi questa è la versione di wish c'è l'esultanza bisogna ancora impostarla bene cioè nel senso di solito l'esultanza facciamo xl1 r2 poco la sua versione ho schiacciato r1 r2 ed è uscito un po di cose dai fanno noi ragazzi bravi tutti bravi tutti bravo davide che non ha segnato nemmeno un gol ragazzi attenzione perché luca ha aperto il canale ufficiale quindi se volete vedere contenuti esclusivi di qualità belli che assomigliano a leo messi cliccate o sul titolo o sul link in descrizione qua mi raccomando buon bers questa qua è una bella sfida dobbiamo riproporla e scrivete qua sotto chi sarà magari il prossimo ospite che dobbiamo sfilare su questa grande sfida mi raccomando un bel like e un bel commento se vuoi essere un bomber devi iscrivervi sul canale dei due vabbè vamos vamos raga